Ragazzi, finalmente, e non ci credo neanche io, è uscita l'applicazione Final Cut Camera che in teoria ci dovrebbe permettere di gestire manualmente tutte le impostazioni di ripresa video su iPhone gestendo anche i formati Log, ProRes, eccetera, eccetera andando anche a gestire l'audio dei microfoni esterni e poterli scegliere cosa che non era assolutamente possibile con l'applicazione di base di iPhone quindi non l'ho ancora aperta, l'apriremo insieme, l'ho solo scaricata perché un mio amico mi ha detto, ehi, guarda che è uscita ho provveduto subito a fare il video ovviamente questa sarà una panoramica perché la guarderemo insieme quindi non so cosa aspettarmi, se sarà come al solito un'app un po' castrata oppure in realtà troveremo delle novità abbastanza utili per lavorare anche con iPhone in modo più manuale, più professionale cosa che si poteva fare fino adesso solo con app di terze parti come ad esempio Blackmagic Camera quindi, detto ciò, potrei dirvi che iniziamo a guardare cosa c'è all'interno di questa app inoltre, se non l'avete ancora visto, oggi, stamattina, cioè qualche ora fa ho pubblicato il video con tutte le novità dell'aggiornamento di Final Cut Pro 10.8 che si avvale anche dell'intelligenza artificiale per alcune piccole funzionalità niente di epocale, ma ve lo lascio a fine video e in descrizione recuperatelo se non l'avete ancora visto dunque, apriamo insieme Final Cut Camera, non l'ho ancora assolutamente aperta solo scaricata facciamo clic su apri qua ci dà il benvenuto quindi andiamo, ovviamente in inglese andiamo a configurare il tutto consentiamo all'accesso delle varie videocamere e microfoni del nostro iPhone allora, consentiamo anche la posizione quando utilizziamo l'app e permettiamo anche la scrittura ah, qui abbiamo già una buona interfaccia nel senso, abbiamo diversi comandi che finalmente sono disponibili per gestire tutte le opzioni video cominciamo dalla parte in basso a disposizione troviamo il 13 mm che è il grand'angolo il 24 mm e in questo caso che è il Pro Max il 120 mm ok, qui abbiamo appunto le lenti poi abbiamo la possibilità di premere sullo zoom e scorrere a sinistra o a destra per eseguire lo zoom graduale bisogna tenere premuto appunto sul punto in cui vogliamo zoomare ok, mi sembra abbastanza abbastanza buona come gestione dello zoom poi in alto vediamo che abbiamo le tracce audio quindi immagino che nel momento in cui andremo a connettere un microfono saremo in grado di sfruttare il microfono ok, perfetto, quindi se colleghiamo un microfono attraverso la porta USB-C o Lightning sulla scheda audio potremo scegliere il tipo di dispositivo in questo caso è selezionato This Device ovvero il microfono interno di iPhone su Tool troviamo la griglia a quanto pare Grid Overlay per rispettare un po' le regole di composizione poi abbiamo Aspect Ratio Wide, non so come si pronunci quindi quadrato, quattro terzi oppure off in modo che registriamo tutto schermo ho l'esposizione, quindi l'indicatore di overexposure così vediamo cosa è esposto e cosa no in modo corretto e anche il focus peaking questo è molto bello spero, lo dico subito, spero che aggiungano la possibilità di modificare, ammesso che non ci sia e non lo trovo la colorazione del focus peaking e dell'over exposure indicator perché in questo modo se abbiamo uno scenario che è tutto verde come ad esempio questo riusciremo a gestire meglio, a vedere meglio quello che si trova all'interno dell'area di messa a fuoco altrimenti verde su verde non si vede nulla ma Apple ci arriverà se non l'ha già fatto appunto poi abbiamo la stabilizzazione che va a croppare un po' l'immagine e a rendere immagini più stabilizzate poi abbiamo Mirror Front Camera ok, quindi specchiamento della camera frontale va bene, qua troviamo SDR Rec 709 e HDR HLG come Dynamic Range e qua le varie impostazioni ne andiamo a vedere insieme c'è un 720, 1080 e 4K con framerate fino a 60 e i 120 fps e i 240 fps non sono supportati da HLG quindi se noi andiamo ad impostare su 709 dovrebbero attivarsi andiamo a vedere insieme 709 possiamo scegliere anche Apple ProRes chiaramente ok, ne impostiamo 709 e poi andiamo a selezionare ragazzi ho perso il filo ah ok, non me lo fa selezionare lo stesso perché non è supportato in 4K quindi dobbiamo mettere 1080 709 e allora potremmo registrare in 120 fps o 240 ok, come al solito un po' di compromessi nonostante sia iPhone 15 Pro Max non importa ci accontenteremo perché è meglio di niente vediamo se sarà meglio di Blackmagic camera oppure no poi che altre cose troviamo qui H265 oppure Apple ProRes che ovviamente se non colleghiamo un dispositivo esterno registrare in ProRes non sarà possibile perché non abbiamo abbastanza spazio sui dispositivi qui abbiamo il menu rapido dove si può switchare da ProRes HVC HDR anche in Log molto bene e poi 4K e anche il framerate dalla scelta rapida beh, fondamentalmente abbiamo tutto quello che ci serve per gestire al meglio i dispositivi quindi se io vado qua in alto a sinistra su quest'icona consento di connettersi tutte le cose che vogliamo Bluetooth eccetera eccetera andiamo ad accendere ad accendere il Bluetooth ok ah ok si potrà andare a connettere con iPad il Final Cut e poi gestire appunto immagino le multicamere come avevano detto ma io ora iPad non ce l'ho con Final Cut installato anzi non ce l'ho proprio su iPad espandendo invece la freccetta possiamo andare a gestire il bilanciamento del bianco però lo mettiamo in HDR così andiamo a notarlo meglio ok bilanciamento del bianco con anche tutta una serie di regolazioni molto interessanti preimpostate chiaramente oppure abbiamo a disposizione l'esposizione anche questa un po' più gestibile rispetto a dover pacioccare sullo schermo con il dito l'autofocus che può essere anche manuale in questo caso proviamo un po' funziona molto carino molto carino bisognerà prenderci un po' la mano e poi abbiamo possibilità di bloccare l'orientamento della schermata in modo che il video rimanga sempre nella posizione in cui abbiamo deciso di girarlo perché facendo così se non è bloccato si gira e questa cosa può essere un gran problema se si sta lavorando ad un certo tipo di contenuto e basta non trovo niente altro di degno di nota diciamo così e beh lo zoom l'abbiamo visto proviamo anche la fotocamera interna che comunque è sempre una fotocamera pessima rispetto a altri dispositivi Android e niente beh però diciamo che ci sono stati degli sviluppi vedremo come sarà poi lavorarci effettivamente con questa fotocamera con questa fotocamera di Apple che Android ha da anni Google stessa ha tutte le opzioni manuali peccato e mi sembra che sia proprio un peccato che non abbiano messo la possibilità di scattare le fotografie perché lavorare così con la fotografia sarebbe stato anche se in realtà c'è tutto anche nella fotocamera di base per quanto riguarda le foto tutto quello che ci deve essere quindi ben venga bene fatemi sapere se l'avete già scaricata chi di voi ha iPhone e se l'avete già provata prima di me cosa avete riscontrato perché io ancora non l'ho provata effettivamente per registrare l'ho aperta adesso davanti a voi mi raccomando lasciate un bel mi piace qua sotto noi ci vediamo al prossimo video spero non due al giorno perché sennò mi picco ciao e buona giornata